La Gran Sassoacqua lancia il nuovo sito web e il nuovo logo, occasione per fare il punto sui sottoservizi, opera controversa che l'azienda però vuole terminare. In questi mesi non siamo stati fermi, abbiamo avuto interlocuzioni continue, incontri, tavoli, riunioni con le ditte appaltatrici, con i tecnici incaricati e la soluzione che si sta prospettando sia quella comunque di trattare in maniera disomogenea i cinque lotti che restano del secondo straccio per portarli comunque a compimento seppur con delle varianti, varianti che poi verranno poste all'attenzione del Comune sul quale dovrà esserci dato il consenso per procedere in questa direzione. Disomogenea perché ogni situazione è diversa dalle altre e ovviamente bisogna in qualche maniera portare a termine l'opera pur avendo contezza del fatto che la situazione è cambiata in maniera enorme rispetto a prima ma non solo per le attività produttive, per il rientro in centro della città ma anche ovviamente per il costo dei materiali che è più che raddoppiato rispetto ai quadri economici degli appalti iniziali. Un'altra questione che risolverà un problema non di poco conto è quella della realizzazione del nuovo depuratore che servirà alla zona ovest della città. Do la notizia che il Consiglio di Amministrazione della Gran Sasso ha già deliberato per il raddoppio di quel depuratore perché ovviamente c'è la necessità di soddisfare tutta la zona e di raccogliere tutti i paesi vicini. Quello è un depuratore che garantirà la portata per circa 20.000 utenze e andiamo già verso il raddoppio a 40.000. In questi giorni si sta procedendo proprio a connettere tutte le reti, quelle che mancavano sul nuovo impianto. Credo che non ci vorrà più di qualche mese per poterlo mettere in funzione e smettere gli altri. Per quel che riguarda invece il nuovo sito si tratta di un'innovazione molto importante che punta su digitalizzazione dei servizi, modulistica online, monitoraggio acqua e conoscenza delle reti, informazioni utili sul risparmio idrico. Ci sarà una pagina dedicata al cittadino per le autoletture e avvisi in tempo reale sulle perdite. L'azienda si è dotata poi di un logo che rappresenta le vette del corno piccolo e corno grande con l'immagine stilizzata della goccia d'acqua. La Gran Sasso intanto ha razionalizzato gli spazi esterni. Entro novembre si inizieranno i lavori per il parcheggio destinato all'utenza con una cartellonistica più efficace.